Per creare il suono della goccia bisogna colpire la propria guancia con un dito e buttare fuori l'aria dalla bocca. Bisogna posizionare le labbra come per fischiettare, leggermente socchiuse. Si dovrà creare uno spazio tra i denti superiori e inferiori. In corrispondenza della guancia colpiremo con il dito. La guancia dovrà essere tesa. La lingua si sposterà in avanti senza toccare o superare gli incisivi. La lingua spostandosi in avanti spingerà l'aria fuori dalla bocca creando un suono simile a uno schizzo. Il movimento della lingua va eseguito subito dopo aver colpito la guancia. Se aspettiamo troppo il suono non si creerà. Con un po' di pratica il suono diverrà sempre più chiaro.